Con l'obiettivo di rafforzare la competitività del settore dell'olio e una rete di produttori di olio salutistico, si è svolto un incontro stamane nella sala convegni del Palazzo della provincia. Le relazioni sono state svolte da Vito Perremuto, responsabile del servizio di igiene e della nutrizione dell'ASP di Ragusa, Guglielmo Cartia di Federfarma Ragusa e Ernesto Puglisi Allegra, responsabile dell'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di Catania. L'olio, questo alimento importantissimo nella cultura mediterranea che ha per definizione grandi virtù anche non solo nutrizionali ma soprattutto di carattere salutistico, tant'è che è uno degli alimenti funzionali più importanti che ci rappresentano non soltanto sul territorio nazionale ma anche a livello europeo. L'olio ha tante virtù e per averle bisogna che fin dalla nascita, fin da quando si decide di coltivarlo bisogna fare delle scelte ben precise, sia territoriali, agronomiche, eccetera. Se si danno queste garanzie di crescita avremo un olio, il cosiddetto soprattutto olio extravergine di oliva, che rappresenta il massimo dell'espressione nutraceutica per quanto riguarda alcuni principi fondamentali di cui due minuti, due secondi anzi accenerò. L'olio già a prescindere, se è consumato crudo, se è mantenuto bene, se è processato bene, rappresenta veramente un momento di salute perché favorisce molte funzioni, soprattutto intestinale, oltre che cardiovascolare. E' ultima e non la meno importante, pare che abbia effetti di prevenzione delle neurodegenerazioni con precisione. Quali sono i principi che hanno queste grandi virtù? Sono i cosiddetti polifenoli dell'olivo. Ricordiamoci che nell'olivo non ci sono soltanto i polifenoli, ma circa più di 400 sostanze, molte delle quali devono avere ancora un nome e un cognome, ma tutte hanno un effetto benefico e non solo nutrizionale sulla salute. Oggi mi fermerò soprattutto sull'olio cantale e sull'idrossitirosolo che rappresentano fondamentalmente i tre principi che per ora pare abbiano interesse da parte di tutto il mondo scientifico, assieme ad altri ovviamente. Qual è il messaggio? Il messaggio è quello di utilizzare l'olio fondamentalmente crudo tutti i giorni perché contrariamente ai principi farmaceutici non agiscono nel giro di mezz'ora, chiaramente, ma i prodotti questi vanno ingeriti bene tutti i giorni nel contesto di una dieta sana. Alla lunga questi principi danno salute perché hanno un grandissimo potere antiossidante e poi non secondariamente a un altro ruolo che è il ruolo cosiddetto epigenetico. In due parole, sul ruolo epigenetico dobbiamo dire che l'introduzione di queste sostanze tutti i giorni in un modello dietetico è un'occasione di veicolare alle generazioni future un messaggio importantissimo di tipo epigenetico che condizioneranno sicuramente le scelte alimentari e di salute anche delle generazioni future. È un'occasione d'oro da non perdere perché quest'olio rappresenta sicuramente nel nostro modello dietetico uno dei principi di salute più importanti. Nella mia relazione di oggi parlerò delle proprietà terapeutiche e farmacologiche dell'olio extravergine di oliva che alla luce delle nuove risultanze risulta essere attivo sulla prevenzione di parecchie patologie che oggi impattano enormemente sulla popolazione a livello mondiale e soprattutto sulla correzione delle linee guida alimentari che possono essere causa di malattie degenerative neuromotori, vascolari, disturbi pressori, infarti che con la corretta alimentazione possono essere stoppati e anche prevenuti. Daremo anche notizia di ultimi studi che hanno visto delle proprietà vantaggiosissime dell'olio extravergine di oliva anche sulla prevenzione, sulle condizioni che prevengono, anche patologie tumorali come il tumore al colon, il tumore al pancreas e l'osteosarcoma che sono patologie che sono in forte crescita a livello mondiale. Ci occupiamo delle frodi nel campo agroalimentare e quindi anche l'olio che sarà oggi oggetto di questo convegno per quanto riguarda la tracciabilità di prodotto e quindi anche sull'etichettatura che è la carta di identità di ogni prodotto alimentare e quindi noi ci occupiamo di tutte le frodi nel campo agroalimentare anche dei mangimi, concimi, sementi, fitosanitari, siamo una struttura del ministero che ha dei uffici in tutta Italia con delle squadre ispettive che andiamo in giro appunto a fare questi controlli presso gli operatori e ci occupiamo anche del biologico che siamo l'organismo che controlla la certificazione per quanto riguarda i prodotti bio e anche gli altri prodotti in qualità tipo DOP e IGP che diciamo che sono il fiore all'occhiello della nostra agricoltura perché oggi per i mercati possiamo avanzare e dare e essere di punta soltanto producendo prodotti in qualità perché per quanto riguarda i prodotti generici abbiamo una forte concorrenza dei paesi esteri e anche quelli in special modo quelli mediterranei.